Sì, sono qua, eh. Mi disegno, sono qua. Ed estra non ci sono. 44. Blue armor, eh. Sì, Karakuno. Blu. Andiamo like. Sì. Oh, cavolo. Pensavo fosse un pixel. Tracato 102. Ma è andato. Te ne ho detto che il G7 fa male. Tracato, bloody. Finito. Non voglio usare l'ulti, non voglio usare l'ulti, ok? Ok, quello con le block fa male. Tracato la wraith. Dov'è l'altro? Qua, qua, qua. La wraith è all'headglist. Mi faccio su a parmer qua. Dai, ancora il bug dei no-rag, cioè. No. Sono good, sono good, sono good. Sei morto? Mi stanno da lontano, eh. Dove è lo zitto, scusami. Eh, lei. Mi ha dato. Vuoi un phoenix, ti do un phoenix, ok? Grazie. Ancora il bug dei no-rag, cioè, comunque, dopo l'acqua di wraith. Vieni. C'è zento davanti a me, zento davanti a me. Sì, sì, vedo. Scendendo. Rated, bru. Da me, da me. Ma è il solo, mi sa. Occhio, 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 no, non è il solo. Mi sono da mano. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. L'ulto, l'ulto, l'ulto. È buono. Guarda quell'altro dove mi spara. Mi curzo, mi curzo. Devo far phoenix, devo far medikit. Non capisco dove siano. Faccio tpm, beh. C'è uno 2d1, eh. C'è uno 2d1. Poi devo fare in batto, ok? Lo prendo instant, Occhio. Vai, vai, vai. Voi fate, se ne sono solo due, se ne sono solo due, ok? Sì. Mi faranno dietro, mi faranno dietro. Quanti hit? Ma un a terra? Da sopra? Un a sopra, sì. Non arriva dietro, guarda il mio cazzo, là dietro, da voi. Oh! Devo far med... Devo far med... Non vuole morir, sì. Mi sto curando solo, mi sto curando solo. Nice. Braccato, flash, flash, flash. È lui, è lui. L'ho bucato, eh, l'ho bucato. Guarda. Da me. Brava tu, eh. Bravo. E shield? Non ce l'ho. No. No, comunque non va bene questa... Cioè, non è possibile. Sai, io non ho fatto niente perché devo curarmi tutto il tempo per la zona. Ma ne vado, me ne vado, sono a purple, non voglio lasciare lo swap. Ma mi puoi anche restare, white, sai? Non qui, non qui. Sto curando. Vai. Hai un medikit? Io no. Sì. Gimmi, gimmi. Ma quanti sono? Due team? Ancora uno. Sono due team, sì. Sto ancora inlocchato, eh. Io vado dentro, man. Di full arrivo, di full arrivo. Great one. Bocca il 3x che rialza il 10%, ok? One. Bravissimi. Gli altri non era un full, mi sape. Guarda che roba. È white, vai, vai, vai. Ma è solo? No, no, no. Vai, non importa. Lo dovrei prendere, lo dovrei prendere. Non me lo so, morto. Mi puce. Mi puce fare 4? No. Ho fatto la ulti. Ho fatto la ultima, comunque, un po' di ola. Eh. Nei, dove è schizzo dietro? Non è il TP? Falso, batto, falso, batto. No, non è il TP, 95. Shield up, please. Vivo adesso, ok? Vai, vai, vai. Uuuh, mi ha arrezzato. Ok, 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 non so se puoi restare. Posso? Ok, occhio, ok. Non ho resto. Sto tirando batte. Crackata la pipa, la loba. A te vieni, a te vieni, a te vieni. Morto uno, morto uno, morto uno. Amicino a te, hai la ulti. Porta la loba. Nice. C'è un 2v. Crackata la avrete, la HP la avrete. Ti dà una mano, ti dà una mano. Un po' di parte, zi. Ma perché non mi spara? Non so più cure a flash, eh, remember. C'è il craft, c'è il craft. Non so per morire, avete neccele. Sì, 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 sì. Porco, trame un po' di parte, guarda. Era della pizza, White? Prima, sì, l'ho già preso. Poi se mi fermo. È la diavola. Che schifo. Hai già mangiato pizza? Che schifo. Sì. Mi sono mandato la salsiccia, dolce, bufala e... Speck e l'altra era speck e... Boh, non mi ricordo. Hai mangiato due? Eh sì. Minchia. Perché una non mi soddisfa mai? Hai preso due pizza? Ah, beh, ma... Io di escape non ce la faccio a mangiarmi. Devi capire che Mox manza quanto? 37 persone, tipo. Tutta una volta ha preso il POC. Il POC-Helic, ma il gatto si chiama. Poi non sarebbe... Non mi pare l'altra roba, tipo. Ho detto, boh, no, no, non basta. Un ordine, un altro. Ho scoperto che anche questa parte qua è giocabile di mappa. Sapevo. Quale, scusami? Sì, l'hanno modificata, può essere? Come si è passata così? Oh, davanti. Non lo so. Sì, sono di noi, eh. Ah, no. Non lo so, sai? No, vado via. Uno blu. Cosa mi gira dietro, Mox? Due blu? Vabbè, cioè, ma come è possibile? No, no. Tu resti iodo. Te la fai? Sì, devo riservare. Dimmi te, non sto guardando. Non vedo un caffè. Eh, vabbè. Faccio battito. CP. Ma oggi mi scoppiano tutti, cioè. Arrivano, devi giocare per te. Vai, 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 vai. Gioco per te. Vai, vai, i punti li abbiamo. Arrivano, eh. Qua da me, qua da me. Continuano, eh. Hanno seer, ovviamente. Quindi, fate proprio il tuo game e vai, vai. E la vabbè che c'ho solo squarta e seringhette. No, e non ti vedo, no? Eh, allora, tecnicamente se faccio così. È che però, se ti arriva uno, ti apre, cioè, ti apre il bine e finita. Vabbè, si caga in mano. La nuova modalità di Halloween, dievo. Sì, presente? Quando uscivi il ragno. Sì, sono dentro il prossimo ring. Un'altra cosa che non puoi ruotare è il bin, se è chiuso. Qualcuno appare lì e io devo uscire dal bine e correre. What? Cos'è sta cosa? Cosa? Ma se l'ha però non ti vedo là dentro. In realtà mi vedono anche da fuori. Ah, oltre. Però poco, 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 poco. Eh, sei per il cavolo. Outro. Ti apri? Ah, chiuso di me. Non ce la fanno a morire, queste. 45 minuti, fino al ring a cercare. È vicino. Dai, 30... Devo resistere, ancora un minuto. 30 secondi. Oh, se i team di zona 6 sono tanti, eh. Non ce la fanno a morire, non ce la fanno a morire, non ce la fanno a morire. 5, 5, 5 e il rato destra. Devo dire che posso fare massimo 4, sfortunatamente. A meno che non arrivi lì. Dal muletto sì, allora arriverò lì. 5 team. Oh! Aspetta, sotto, mezzo, sopra, rato destra. Aspetta. Ah! Sì 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 Sì